La Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito nell'ambito di un'inchiesta su una truffa al bonus facciate un decreto di sequestro per quasi 9 milioni di euro emesso dalla Procura della Repubblica. Il provvedimento ha riguardato una società lagunare operante nel campo dell'edilizia, al suo rappresentante legale e a colui che di fatto operava come responsabile commerciale, indagati per aver ottenuto, anche attraverso le emissioni di fatture attestanti circostanze false, illeciti profitti mediante la creazione, la cessione e l'indebita compensazione di crediti fiscali ritenuti inesistenti. Il sequestro ha riguardato i crediti d'imposta pari a circa 6 milioni di euro, un furgone del valore di 28 mila euro, disponibilità finanziarie pari a circa 330 mila euro, quote societarie del valore di circa 200 mila euro, nonché 6 immobili del valore complessivo pari a circa 2 milioni di euro. Tra le province di Venezia e Belluno i sequestri eseguiti sono stati convalidati dal GIP di Venezia.